C'è stato questo periodo dove davvero avevo paura di uscire di casa, avrò avuto 10-11 anni, tutto nasce quando un mio compagno di classe delle elementari mi fece vedere una foto di un famosissimo serial killer d'America, John Wayne Gacy, io non so come lui facesse a conoscerlo, so soltanto che quella cosa mi terrorizzò. Questo serial killer era famoso perché prendeva i bambini, i ragazzini, quello che gli faceva non me la sento di dirlo, ed è infatti poi il serial killer che ha ispirato la creazione di IT, il famosissimo film horror che tutti abbiamo visto almeno una volta nella vita. La mia curiosità mi distrugge ogni volta, infatti sono andato a cercarmi documentari, film, serie tv, qualunque cosa, perché sono troppo curioso, però mi rendo conto che questa cosa mi ha davvero rovinato l'infanzia. Cioè io oltre a non uscire più di casa, ero tornato addirittura a dormire nel letto dei miei genitori, non lo auguro a nessuno.